Associati olivicultori, ben ritrovati al numero 27 del periodico 5 luglio 2024. Siamo in fase del primo ingrossamento degli oliviti, c'è anche la presenza di una cascola fisiologica delle olive. Abbiamo approfondito l'argomento perché in alcuni casi potrebbe essere patologica o causata anche da stress ambientali. Abbiamo approfondito l'argomento con il dottor Luca Perussetto. Leggetelo nel periodico, sarà interessante. In questo momento abbiamo anche la caduta delle foglie, soprattutto quelle che voi vedete gialle. È un rinnovo che la pianta dell'olivo fa ogni due o tre anni della propria chioma. Diventano gialle per un semplice motivo, perché la pianta prima di lasciarle cadere riassorbe tutta la colorofila presente, mentre lascia all'interno i prodotti di scarto della pianta stessa, controllate se ci sono eventuali patologie, ma non è da preoccuparsi ulteriormente. Parassiti, tignola dell'olivo. Siamo in fase di esaurimento della generazione carpofaga, mentre sta aumentando la popolazione della mosca dell'olivo. Le olive sono già in fase recettiva, attirano la mosca femmina, perciò c'è una potenzialità oramai nelle prime ovi deposizioni. Chi ha intenzione di utilizzare come tecnica di difesa l'utilizzo delle trappole e ancora in tempo di andare ad applicarle. Mentre siamo giunti anche nel momento in cui chi utilizzano antideponenti con le polvere di roccia, come il caolino, la bentonite, la zeolite, condizioni climatiche permettendo, può già andare ad applicarla sopra le chiome. Attenzione, bagnare bene, avere anche l'occortezza di mettere nelle miscele degli adesivanti e anche dei bagnanti. Cimice asiatica. Negli oliviti del centro del nord Italia si sta sempre più diffondendo il momento eventualmente di andare ad applicare un intervento con la delta metrina o altro tipo di prodotto commerciale. Attenzione, un solo trattamento. L'utilizzo della delta metrina va anche a limitare la popolazione di mosca dell'olivo. La settimana scorsa avevamo già dato indicazioni per la cociniglia mezzo grano di pepe. Oramai abbiamo completato le schiuse, ci sono presenze di neanidi. Chi ha la necessità può intervenire con oli bianchi oppure con saponi molli di potassio. Sono utili questi ultimi anche contro le fumagini. In alcuni oliveti si è riscontrata la presenza di foglie erose in una forma particolare, a lunetta. Segno che c'è stata la presenza dell'ossiorinco. Chi nel proprio diveto trova queste manifestazioni può intervenire andando ad applicare dei manicotti impregnati di vischio oppure prodotti con lana di roccia in modo da impedire a questo insetto, che ha abitudini notturne, di salire e di andare a posizionarsi e a creare danni sulle foglie. Parassiti fungini. In caso di necessità in questo periodo si può intervenire con prodotti rameici. Ricordiamoci anche che questi hanno una azione anche antideponente nei confronti della mosca dell'olivo. Eventi grandinigeni. Considerato che siamo proprio in un periodo dove possono accadere, si ricorda che bisogna intervenire nelle successive 24-48 ore per andare a disinfettare le chiome colpite. Cosa usare? Sempre i prodotti rameici. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci. Alla settimana prossima.